Sento l'ospite di questa sera, Enzo Paolini, che è un avvocato cassazionista, come si dice in gergo giuridico, cioè discute le cause in Cassazione, giurista, esperto di diritto civile e amministrativo e anche di sistemi elettorali. Ricordo che ha ricoperto varie cariche istituzionali come avvocato in ambito privato, ma è stato impegnato anche sul piano civile e politico, ha contratto il vizio dell'impegno politico fin da giovane, è stato nel partito radicale, poi nel partito socialista, ha partecipato, è diventato come indipendente, assessore comunale al comune di Cosenza, ha ricoperto il ruolo tra il 99 e il 2002, e due è stato docente e incaricato di diritto sanitario presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione a Roma tra il 2000 e il 2008. Ha lavorato con altri avvocati e giuristi per la formazione del comitato per il no al referendum istituzionale voluto da Renzi e della Boschi nel 2016, ha finito di lavorare con Felice Besostria all'elaborazione della legge di iniziativa popolare per la trasformazione in senso proporzionale della legge elettorale. Credo che gli farà piacere, se io ricordo che è anche presidente del Tribunale federale della Nazionale di Reggibi, uno sport di cui è appassionato, uno sport nobilissimo di cui mi ha fatto scoprire davvero la nobiltà, la cavalleria che lo caratterizza ed è carica di non ultimo marginale significato presidente del premio Silla. Il tema di questa sera costituisce un nodo rilevante della vita politica e del sistema politico italiano, un punto di inceppo, di blocco della democrazia parlamentare del nostro Paese. Ricordo che l'Italia, con la varietà delle sue culture politiche, la cultura azionista, la cultura radicale, quella socialista, quella comunista marxista, quella cattolica, ha espresso una cultura politica varia, conflittuale e ricca, ma è stata rinchiusa nella camicia di forza del sistema maggioritario. Molto rapidamente, in sintesi, ricordo che uno degli attori di questo processo di cancellazione e di queste culture di chiusura della varietà delle culture politiche italiane nella camicia di forza del bipartitismo è stato il Partito Democratico. Un partito nato nel 2007, non a caso con questo nome, a modello del Partito Democratico americano, in una fase storica in cui il bipartitismo anglo-americano era in evidente crisi. Prima dell'emersione di Trump negli Stati Uniti, i programmi dei repubblicani e quelli dei democratici erano i medessi, ma allo stesso modo quelli dei laboristi e dei toriesi inglesi. No, cioè non c'era più ragione di una divisione di questo tipo che era votata alla conservazione dello status quo. Naturalmente, io non voglio rubare la materia della riflessione che svolgerà Enzo Paolini, ma voglio ricordare che questo, diciamo, sia il maggioritario, sia il modello bipartitico, con questa camicia di forza imposta dall'alto, hanno come fine, almeno come fine dichiarato, quella della governabilità, cioè quello di rendere il sistema politico italiano funzionante, efficiente, in grado di generare riforme, eccetera. E questo con la motivazione che i governi durano poco, non hanno la possibilità di realizzare i programmi su cui nascono e per i quali vengono eletti. Allora, io ricordo, ma molto, molto brevemente, che questa è una motivazione falsa e infondata, cioè prima di prove empiriche e di prove storiche, perché i governi che duravano pochissimo, voglio ricordare quelli che vanno dal 1946 al 1981, sono governi che hanno prodotto, cioè quando c'è il primo governo non democristiano, quello di Spadolini, hanno prodotto una serie straordinaria di riforme che hanno cambiato il volto del proprio paese e hanno fatto avanzare la democrazia e la condizione di dignità di milioni di italiani. Ricordo che, per esempio, nel 1949 nasce l'Inna Casa, che sino al 1963 costruisce case dignitose per migliaia di famiglie di operai. Nel 50 viene effettuata la riforma agraria, che per quanto limitata abolisce il latifondo, un pezzo di medioevo sopravvissuto nelle campagne italiane. Nel 50 nasce la Casa per il Mezzogiorno, che nella sua prima fase, soprattutto fino a 1957, cambia i connotati territoriali del nostro Mezzogiorno. viene realizzata la scuola medioevo unica, nel 70 lo statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio, nel 62 la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ricordo da ultimo almeno il sistema, la nascita, la formazione del sistema sanitario nazionale, che costituisce, a mio avviso, una delle pagine più avanzate della civiltà sociale del nostro paese, oggi gravemente compromessa. I governi berlusconi, i governi secondi, il quarto governo berlusconi, e il governo crax, sono governi che hanno durato di più. Non possono assolutamente vantare riforme minimamente comparabili a quelle avvenute in una fase storica in cui si cambiavano, certo, i governi, ma esisteva una forte opposizione sociale, sia a livello politico, sia a livello sindacale, e aspri conflitti segnavano la vita del Mezzogiorno. Ed erano questi conflitti, e sono stati soprattutto i conflitti del 68 e 69, che hanno portato alle grandi riforme degli anni 70. Quindi non è con la governabilità senza idee di partiti ridotti a comitati elettorali che possono assicurare le riforme di cui il Paese ha bisogno. Io mi fermo qui, l'ho fatta abbastanza lunga, e cedo subito la parola a Genso Paolini. Buonasera a tutti. No, non l'hai fatta lunga. Si potrebbe chiudere questa tua prolusione con l'affermazione che tutti quanti noi disdegnavamo in quegli anni che hai citato, cioè non voglio morire democristiano. Invece da quello che hai detto aspiriamo tutti a morire democristiani, aspireremo tutti a morire democristiani. In effetti è un paradosso che ha in sé un germe di verità. Tutte le cose che hai citato e hai fatto la parte politica che competa a questa nostra, ovviamente non lezione, dati gli astanti e i partecipanti, ma conversazione su queste tematiche, tutta questa parte politica dimostra che la parola governabilità, che nella Costituzione non c'è, non è citata questa parola, non è ovviamente data dalla detenzione di un mero potere, ma dall'esercizio politico, che era quello che si svolgeva in quegli anni, dove cambiavano gli assetti di governo, ma la formula nata agli alta, la formula del governo, cioè i blocchi comunisti da una parte, i cattosocialisti dall'altra, erano due blocchi che mantenevano una governabilità che è data proprio dai conflitti. Là dove ci sono i conflitti, dove ci sono i confronti, le discussioni, i dialoghi e le formule delle alleanze politiche, l'accessabilità, dove questo non c'è, e da noi, ai noi, dal 92, non c'è più questa conflittualità, questa discussione, questo dialogo nell'ambito istituzionale, c'è, come dicono, come si dice stucchevolmente tutte le volte che ci sono i talk show sui sistemi elettorali, bisogna sapere, la sera delle elezioni bisogna sapere chi vince, ma noi non siamo alla domenica sportiva che la sera si deve sapere chi vince, le elezioni non sono fatte per sapere chi vince, le elezioni sono fatte per consegnare alle istituzioni la fotografia del paese, per questo si fanno le elezioni, non per sapere chi vince. E questo è giustamente come come hai presentato molto bene in questa preoluzione, è la parte politica che spiega qual è il sentimento che ci spinge da molti anni, almeno me e altri bravissimi avvocati come Felice Besostri, Enzo Palumbo, Mauro Sentimenti, Acquarone, Mauro Beschi e altri, a testardamente impuntarci per portare davanti alla Corte Costituzionale ormai per la quarta volta la legge elettorale vigente. Perché per la quarta volta? Faccio una premessa, poi arriva la quarta volta. Io sono stato catturato dalla voglia di impegnarmi in questa nicchia una sera del 2006 quando gli amici della domenica decisero di assegnare nel ninfeo di Villa Giulia il premio strega alla Costituzione italiana. L'idea è stata, naturalmente, quella di far fare a Tullio De Mauro una presentazione linguistica della Costituzione. Perché la Costituzione, quando fu fatta, fu consegnata a un famosissimo linguista per ripulirne gli orrori che talvolta oggi sono frequentissimi, anzi sono la normalità, ma anche all'epoca i parlamentari talvolta non erano dei letterati. Quindi la Costituzione fu ripulita e Tullio De Mauro ne dà conto, ne diede conto quella sera. Io quella sera c'ero per avventura, per, diciamo, la occasionale circostanza che ha ricordato Piero di essere il presidente di un premio letterario glorioso come il premio Sila fondato da Giacomo Mancini e che ho ripreso e che, diciamo, è stato per colleganza fu invitato quella sera. E là mi ho scoperto un mondo costituzionale, eravamo alle porte del cambiamento, il cambiamento, anzi era già avvenuto da tempo il cambiamento della legge elettorale, eravamo alle porte di altri cambiamenti come le riforme prima Berlusconi, le, diciamo, proposte riforme prima Berlusconi, poi Renzi, per fortuna, bocciate, ambedue, e si conto e continuo ad esserne convinto che il bandolo di tutta la matassa della selezione della classe dirigente e quindi della qualità politica che viene sciorinata in Italia dipende direttamente ed esclusivamente dalla forma e dalla formula elettorale di cui si è dotato il nostro paese. Perché dico questo? Perché come ho detto nella Costituzione la parola governabilità non c'è, però c'è un'altra parola molto chiara e diretta che dice che il voto è personale ed oltre ad essere libero è segreto ma uso un'altra parola il voto è uguale. Vuol dire che i voti di ciascun cittadino come si dice in entrata ed in uscita in entrata quando si esprime il voto ed in uscita quando il voto si traduce in seggi istituzionali deve essere uguale per tutti quanti. Quando non è uguale ovviamente c'è una lesione del diritto costituzionale di coloro i quali sono subordinati rispetto ad altri che esprimono lo stesso tipo di voto. Ed è questo il motivo per il quale come sapete nella Costituzione non c'è l'indicazione di una forma elettorale lasciata al legislatore nella forma della legge ordinaria ed è per questo purtroppo che abbiamo avuto tante leggi elettorali. Però dall'impianto costituzionale e cioè da questa norma il voto è libero segreto ed uguale e dal fatto che poi nell'altro titolo della Costituzione c'è la forma istituzionale delle Camere e del Senato dove dice quanti e come devono essere eletti i deputati e i senatori si capisce che il legislatore dell'epoca il padre costituente aveva tra le righe indicato il sistema elettorale che è stato applicato fino al 92 e che ha funzionato egregiamente nel nostro paese se i risultati sono e sono quelli che ha detto Piero Bevilacqua e cioè per una formula proporzionale pura che appunto consegna alle istituzioni la fotografia del paese la traduce in seggi la fotografia e obbliga i partiti obbligava i partiti politici a selezionare la classe dirigente che poi doveva sedere in Parlamento la quale era obbligata naturalmente a svolgere il la dura faticosa attività politica e di governo e cioè stabilire alleanze compromessi esercitarsi sui programmi e soprattutto rispondere della loro attività al popolo che ha eletto questa connessione tra eletti ed elettori oggi non c'è più la connessione il parlamentare calabrese come quello milanese non risponde più ai calabresi risponde al capopartito che lo ha messo in lista e questa scissione questa lacerazione di questo legame rende non solo instabili i governi ma rende ovviamente molto ma molto carente l'attività legislativa che non è più derivante dalle esigenze e dalle dai programmi proposti dai candidati agli elettori ma deriva dalle prospettazioni dalle inclinazioni e dalle idee personali dei piccoli o grandi capi e capetti che comandano e ai miei occhi è molto chiara questa questa questo spaccato e questo questo quadro dal punto di vista politico sul piano strettamente tecnico la legge elettorale la prima legge elettorale quella definita italicum che con il latinetto che si imprime a tutte le leggi elettorali l'italicum era una la prima rivoluzione è stata la prima rivoluzione dal punto di vista della cancellazione del sistema dei partiti perché lo dice con uno con una motivazione molto ma molto chiara ed emblematica la corte costituzionale che nel 2014 dieci anni fa ha bocciato per la prima volta in maniera perentoria una norma che il legislatore aveva aveva introdotto già all'inizio con una violazione costituzionale e cioè con il voto di fiducia la costituzione dice che il sistema ordinario per la emanazione delle leggi costituzionali ed elettorali è quella normale cioè passaggio in commissione emendamenti passaggio prima lettura seconda lettura la legge ordinaria la procedura ordinaria per la votazione delle leggi invece abusando poi non entro nei dettagli ma abusando di una di una particolare congiuntura fu approvata con con il voto di fiducia e la corte su questo è stata perentoria perché dice che il principio costituzionale di eguaglianza del voto quello che ho citato prima esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizioni di parità in quanto ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi il sistema elettorale quello che censurava pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa l'italicum non è esente da controllo e risulta censurabile in alcuni aspetti problematici di sicura rilevanza e cioè che il meccanismo premiale è foriero di una eccessiva sovra rappresentazione della lista di maggioranza relativa non so se ricordate che l'italicum consentiva alla lista che avesse preso un solo voto in più di avere anche per esempio facciamo conto un solo voto in più rispetto a tutte le altre quindi se cinque liste avessero preso il sette il quindici il ventidue il ventitré e quella lista il ventiquattro per cento quella lista là aveva il cinquantacinque per cento dei seggi parlamentari era un obbrobrio che trasformava il la rappresentanza istituzionale del popolo italiano in una truppa che cammellata scelta dal capo del partito che aveva un un voto in più naturalmente legge quel momento voluta dal PD nella convinzione di essere il primo partito e poi invece i fatti hanno dimostrato che chi sempre prepara si apparecchia una legge elettorale poi viene penalizzato dalla stessa legge elettorale che ha preparato che ha preparato lui la corte quindi segnala sottolinea i profili di irrazionalità segnalati nelle precedenti occasioni insiti nell'attribuzione di premi di maggioranza senza la previsione di alcuna soglia minima di voti e o di seggi profili ritenuti insindacabili ma in una sede diversa dal giudizio di legittimità costituzionale per cui le disposizioni censurate non si limitano ad introdurre un sistema di trasformazione dei voti in seggi assolutamente privo di qualsiasi motivazione ma rovesciano la razio della formula elettorale prescelta dal legislatore che è quello di rassicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare è difficile che una corte costituzionale questa era presieduta dal eccellente presidente Silvestri ma la redazione della sentenza fatta da Tesauro è difficile imbattersi in una sentenza della corte costituzionale così perentoriamente chiara per per abrogare alcune delle norme di una legge elettorale quale fu il vulnus di tutto quanto che alla fine però ed è detto qua in coda alla sentenza quando tutti quanti noi quella sera dopo il comunicato stampa della corte facevamo giubilo per la cancellazione di questo obbrobrio istituzionale e costituzionale e tuttavia la corte disse tuttavia questa nostra decisione che censura il parlamento e cancella il sistema elettorale così come è vigente e quindi sostanzialmente rende abusivo un parlamento eletto senza la rappresentatività del popolo tuttavia gli effetti della legge che noi abbiamo oggi censurato permangono per cui il Parlamento sia pure eletto in base a una a una legge elettorale incostituzionale quel Parlamento rimane in carica ed è qua il vulnus di tutto quanto che si perpetua fino ad oggi sono 25 anni che andiamo rincorriamo questa cosa il vulnus è questo noi siamo andati a parlare già prima con Napolitano e negli ultimi anni anche con Sergio Mattarella dicendo che se non spezziamo questa spirale noi il sistema elettorale non lo cambieremo mai perché il Parlamento rimasto abusivo rimasto in carica naturalmente ha fatto un'altra legge elettorale e l'ha fatta eludendo in maniera plateale quanto supponente e addirittura irridente la stessa Corte Costituzionale producendo il porcellum che poi è stato nuovamente nuovamente cancellato dalla sentenza 35 2017 tre anni dopo della Corte Costituzionale presieduta da Grossi con il relatore Zanoni in questa occasione fu io ad avere l'onore di parlare a nome degli avvocati anti porcellum e anche la Corte Costituzionale del 2017 fece una sentenza di grave censura dicendo che nel caso della sentenza del 2014 aveva censurato la non corrispondenza tra eletti ed elettori sotto il profilo del premio di maggioranza nel 2017 censura invece l'eliminazione delle preferenze a vantaggio dei listini lunghi listini già preconfezionati con l'indicazione dei numeri e dei posti che avrebbero conquistato ciascuna lista non più partiti ciascuna lista vincente o comunque votata nelle varie circoscrizioni la Corte del 2017 dice questo nuovo concetto quindi già si era censurato il premio di maggioranza ab norm e fuori da ogni regola il 2017 censura di nuovo la legge elettorale la nuova legge elettorale fatta da un Parlamento incostituzionale vi prego di tenere a mente questa cosa che tutte le leggi elettorali anche quella vigente oggi sono tutte prodotte da parlamenti abusivi così definiti non da me così definiti dalla Corte Costituzionale perché eletti sulla base di no di leggi elettorali dichiarate incostituzionali dunque i legislatori parlamentari senatori e i deputati che votano non hanno la legittimità rappresentativa derivante da elezioni regolari perché la legge sulla base della quale sono stati eletti era una legge incostituzionale ed ecco il motivo per il quale se non interviene un 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 atto straordinario quale può essere il respingimento di un presidente della Repubblica che si trova di nuovo a dover firmare una legge elettorale incostituzionale noi popolo non riusciremo mai a spezzare questa cosa ad avere una legge costituzionale elettorale io augurerei proporzionale pura ma anche una legge elettorale mista che però risponda ai canoni costituzionali perché il Parlamento elude sempre per la quarta volta adesso elude questo questo problema ed era diciamo poi il nocciolo fondamentale della della riforma Renzi voi ricorderete per quando Renzi e Berlusconi per giustificare la la loro intenzione di e quindi andare nelle tv e far valere demagogicamente la loro intenzione di snellire i lavori di di smetterla con queste lungaggini di leggi che non si riescono a fare proponevano votassero soltanto i capigruppo come se la democrazia fosse appunto un simulacro dove nelle nelle aule parlamentari potessero votare semplicemente i capigruppo a disposizione del capo del partito e i parlamentari erano dei peoni che a cui si dava un contentino di un lauto stipendio per far numero neanche la legge acerbi prevedeva una cosa del genere e non prevedeva né la il premio di maggioranza così fortemente sproporzionato e né l'abolizione delle preferenze c'erano le preferenze diciamo finte ma c'erano nell'istone si poteva cancellare chi non si voleva nell'istone acerbi qua non si può fare qua non si può fare poi arriverò la legge fascista ricordo sì sì la legge fascista la legge acerbi acerbo poi ci fu negli anni acerbo 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 acerbi acerbo acerbo la negli anni dopo ci fu la anche la la cosiddetta legge truffa ma la diciamo la la cosa più più fortemente preoccupante per me è quella dove siamo siamo arrivati adesso e cioè il rosatellum che è quello e qua chiudo la prima parte della mia conversazione il rosatellum il cosiddetto rosatellum cioè la legge attuale sulla base della quale voteremo è un acerbo delle cose peggiori dell'italicum e del porcellum con un'aggiunta che viene viene e adesso vi leggo un passo che vi farà rabbrivedire che viene proposta come una una legge che ha in sé un un portato etico perché dice dice che la il l'elettore deve avere una coerenza una coerenza rispetto al voto e cioè mi spiego meglio noi votiamo oggi con una legge che prevede che il voto dato nell'uninominale si trasferisce anche nel proporzionale non non abbiamo la possibilità di scegliere noi se differenziare il nostro voto tra uninominale e proporzionale e quota proporzionale la piccola quota proporzionale non l'abbiamo e sapete perché? perché come affermato dalla dal relatore della legge e poi in due diversi giudizi che hanno fino ad oggi noi auspichiamo che avvenga un cambiamento nella nella elaborazione della dei tribunali ma fino ad oggi è stato respinto sulla base il ricorso avverso il il porcellum sulla base di questa considerazione che vi leggo e che vi farà rabbrividire e cioè dice il relatore che l'elettore è in condizioni e la relazione alla fatta alla camera con il voto di fiducia l'elettore è in condizioni di conoscere preventivamente candidati liste e coalizioni gli si chiede sensatamente di manifestare coerentemente qua la categoria l'elettore deve essere coerente se vota per una lista poi deve votare per forza per la lista collegata dove magari c'è un candidato che uno non vuole e deve coerentemente manifestare coerentemente la propria preferenza d'altronde il voto obbligatoriamente congiunto è espressione di un voto lineare razionale e responsabile da parte dell'elettore è una cosa fascista al mio avviso ovviamente e certamente non comprime l'obbligo di votare congiustamente non comprime la libertà dell'elettore dal momento che questi può modulare il proprio voto all'interno della medesima coalizione il cittadino di fatti può votare qualsiasi partito purché collegato al candidato però liberamente selezionato dal proponente e può dirsi che tale meccanismo favorisce quello che dovrebbe essere un profilo già intrinseco alla manifestazione del voto ovvero in grassetto nell'originale la consonanza e la congruenza delle posizioni politiche dell'elettore tradotte e rappresentate in via graduale quindi l'automatica assegnazione del voto al candidato o alla lista in caso di voto alla sola lista o al solo candidato evita un frazionamento del consenso consenso che legittimamente in fase di uscita cioè di trasformazione in seggi si deve si deve presumere dato a una parte politica in toto la quale sintetizza opinioni ed orientamenti condivisi dell'elettore e dei rappresentanti medesimi signori se non è io poi nella mia chiosa dico ma scusatemi ho detto alla corte e nella relazione al presidente della repubblica ma ragioniamo un secondo nel nostro parlamento e nella nostra costituzione giustamente non esiste il vincolo di mandato parlamentare eletto rappresenta non il partito o la lista che lo ha eletto ma rappresenta il popolo per cui non ha vincolo di mandato si decide si determina nelle sedi istituzionali secondo la propria coscienza e per quale motivo invece l'elettore deve avere un vincolo del mandante lui non ha un vincolo del mandato l'eletto però l'elettore ha il vincolo del mandante perché deve votare coerentemente come dice la norma il relatore della norma e condividono alcuni tribunali io spero che il tribunale la corte d'appello di Catanzaro Piero la tua città che è la prima che viene poi dopo c'è Bologna poi c'è Torino poi c'è Reggio Calabria ma la prima che esamina questa questa normativa e la corte d'appello di Catanzaro abbia un sussulto di dignità e mandi questa qualificabile prospettazione politica e istituzionale e legislativa la mandi alla corte costituzionale poi vedremo poi c'è il problema della corte costituzionale ma vedremo dopo ma questa cosa del vincolo del vincolo del mandante che deve per forza votare e se la a quel punto se la cantano e se la suonano come vogliono ovviamente è un obbligo che deve essere cancellato ma se uno non queste cose sono seccanti ovviamente nelle trasmissioni serali forse anche nei giornali sono interessanti solo per gli addetti ai lavori forse solo per noi ma percepirne la la gravità e il pericolo per la la democrazia italiana se non avessimo il testo davanti non ci crederemmo ad essere obbligati ad essere coerenti siamo obbligati ad essere coerenti secondo quello che dicono loro per cui se nella stessa elezione in una lista c'è chiero bevi l'acqua e lo voglio votare poi devo votare anche Enzo Paolini che magari nell'altra nell'altra formazione proporzionale che magari non voglio votare ma sono obbligato a farlo per cui la traduzione inseggi e produce che poi vengo eletto io a posto tuo questa è la l'aberrazione perché magari poi io tu sei stato votato sarai stato votato da dieci persone che si aggiungono alle altre dieci persone che hanno votato gli altri della tua lista i quali tutti però devono confluire su di me nel proporzionale quindi io sarò eletto senza avere nessun consenso e i dieci no è una cosa mostruosa e d'altra parte è la storia che si sta svolgendo adesso in parlamento che stanno cambiando queste normative per fregare quelli che sono stati eletti in questo modo per fare leggere gentile per far ritornare gentile in parlamento ed escludere la signora qua dei cinque stelle che è stata eletta nell'uninominale insomma dei trucchetti che non possono funzionare e non possono andare bene le ultime due cose quale sono ci arriveremo arriveremo alla corte costituzionale e probabilmente io sono convinto che sarà dichiarata nuovamente in costituzionale questa norma ma che cosa succede abbiamo un parlamento dimezzato non più sono 600 persone che sono dei soldati come vediamo tutti i giorni a disposizione dei cinque quattro cinque capi partito nominanti il parlamento è pensabile che cambino la legge elettorale diciamo soffocandosi in culla da soli se si cambia la legge elettorale non saranno più nominati ovviamente dovranno conquistarsi i voti ed è difficile che il 99% dei parlamentari di adesso possa avere un'attrattività in termini di voti e soprattutto questa sinecura di presentarsi alle elezioni senza avere nessuna necessità di fare campagna elettorale di andare a convincere una sola persona di andare per le case a vedere i problemi perché dovrebbero perché dovrebbero cancellare questa sinecura per l'autamente pagata per loro non lo faranno a meno che a meno che il capo dello stato sulla base di un monito per la quarta volta espressa dalla corte costituzionale non non intervenga in maniera decisa respingere rimandando almeno la prima volta questa legge dietro diversamente come ho scritto non abbiamo non abbiamo speranze e questa questione della legge elettorale non sarà non è una mia fissazione è la madre di tutto da qua scaturisce tutto da qua scaturisce la guerra l'economia a mio avviso tutto deriva da qua perché se il ministro della difesa è un produttore di armi noi dobbiamo pensare che non è un caso e che è stato nominato non eletto nominato in Parlamento e poi nominato questa volta legittimamente come ministro ma la sua nomina ai vertici delle istituzioni deriva da una legge elettorale che produce soltanto scranni abusivi e questa è la questione fondamentale questo è lo stato attuale delle cose noi a giugno saremo con Felice Besostri con Mauro Sentimenti di nuovo alla Corte d'Appello di Catanzaro e poi a Bologna e poi sperando in autunno inverno alla Corte Costituzionale per nuovamente dichiarare far dichiarare per la quarta volta in Costituzionale questa normativa l'altra alternativa e finisco che cos'è è una proposta di legge di iniziativa popolare quella che Felice Besostri ha messo a punto per poter obbligare il Parlamento ad esaminare quanto meno Piero lo sa io ci credo poco credo poco anche a questa dell'autonomia differenziata contro l'autonomia differenziata proposta da Massimo Villone credo ancora meno a questa di Felice alla quale ho contribuito ma stando così le cose come ve le ho descritte e stanno così credetemi non non c'è una possibilità che questo Parlamento dimezzato proprio per controllarlo meglio evidentemente per controllarlo meglio possa possa far scaturire una normativa non dico proporzionale come sarebbe auspicabile ma una normativa dignitosa per assicurare a tutti quanti noi una rappresentatività diretta libera ed uguale questo non avverrà se non cambiano alcuni alcuni percorsi che ad oggi non vedo possano essere utilmente strumentalizzati ed è certamente un atteggiamento il mio pessimista ma il pessimista è un ottimista che si è informato e io ritengo che questa informazione che vi ho trasferito questa sera debba condurci a una vigilanza e una pressione forte sotto questo profilo e a un movimento di opinione che è l'unico che può scardinare questo stato di cosa ho parlato troppo più di tre quarti d'ora Piero ma no grazie hai parlato hai parlato nella misura giusta e dicendo cose rilevanti rilevanti e illuminanti perché la maggioranza di noi non conosce questi diciamo gli aspetti tecnici che poi sono aspetti sostanziali che riguardano la funzionalità piena della democrazia le cose che hai detto hanno una rilevanza drammatica noi viviamo governati da un parlamento e da governi illegali che violano la costituzione nella sostanza quotidianamente violano la nostra costituzione questo modifica un pezzo della storia della repubblica noi viviamo viviamo una fase della storia della repubblica di grave alterazione diciamo degli equilibri istituzionali di negazione della possibilità del popolo di scegliere i propri candidati di decidere di decidere va bene io mi taccio do la parola a chi vuole a chi vuole intervenire ti ringrazio perché hai dato un contributo di grande rilievo la lezione poi sarà registrata e tutti coloro i quali vogliono informarsi su questa vicenda lo potranno fare anche con calma nei tempi nei momenti in cui ne hanno agio e possibilità Elisabetta Forni Buonasera a tutti diciamo rompo il ghiaccio da totale profana sono una giurista sono una sociologa di leggi capisco veramente poco ma questa relazione mi ha aperto degli scenari diciamo molto inquietanti e che pongono anche delle domande che provo a formulare così in modo appunto impreciso ma non riesco a farlo diversamente e mi preme farlo allora la prima questione è questa perché non puntare invece su un referendum se la questione delle leggi di iniziativa popolare io ho seguito così più da vicino anche quella di Biesti sull'autonomia differenziata hanno i limiti che sono stati anche qui indicati e quindi danno poche speranze perché comunque si tratta di una legge che deve essere discursa da un Parlamento che appunto ci è appena stato spiegato che è delegittimato e che quindi ben difficilmente potrebbe votare per una legge di questo genere allora il referendum non potrebbe essere un'alternativa e che caratteristiche dovrebbe avere il quesito referendario per poterci liberare da questa questione la seconda domanda ma la Corte Costituzionale per quale ragione arriva fino a un certo punto e poi si ferma e non probabilmente perché è una questione di equilibri politici al suo interno non lo so però vuol dire noi ci appelliamo alla Corte Costituzionale però ci rendiamo conto di quali limiti e vincoli anche abbia e quindi di quanto poco possiamo far conto sulla Corte alla fine terza questione che è marginale rispetto a questo ma forse un nesso ce l'ha il fatto che non sia più obbligatorio andare a votare una volta se non si andava a votare bisognava giustificarlo e quindi questo stimolava per esempio una maggiore presenza di votanti che magari poi annullavano la scheda votavano la scheda bianca comunque era anche un modo per essere più presenti allora la norma che ha abolito l'obbligatorietà del voto che a mio avviso è una norma sbagliata perché vogliamo essere cittadini responsabili e attivi per quale ragione allora non dobbiamo considerare il voto non soltanto come un diritto ma anche come un dovere e in che modo una maggiore affluenza alle urne in qualche modo potrebbe anche cambiare un po' queste dinamiche da un punto di vista appunto dei risultati del voto e della possibilità anche di far entrare in gioco altri partiti che sono quelli che oggi vengono segati fuori che sono come dire rappresentati dai non votanti nel senso che c'è che la stensione chiaramente ha un vaccino di 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 possibili come dire referenti politici che sono poi nostri se vogliamo grazie grazie risabetta provo a rispondere Piero se vuoi rispondere sì lasciamo un dibattito sono domande molto stimolanti e la questione particolare ci abbiamo pensato tante volte il referendum perché non si fa un referendum allora la legge elettorale di base di un di un paese è necessariamente costituzionale così è un è un modo di dire nel gergo dei costituzionalisti la legge elettorale è necessariamente costituzionale ed è costituzionalmente necessaria nel senso che un paese non può rimanere senza legge elettorale per cui i referendum che sono abrogativi delle norme propositivi in altri casi ma non è questo il caso nostro perché non è pensabile fare una legge un referendum propositivo ma in questo caso si dovrebbe pensare come abbiamo pensato tante volte a fare un referendum abrogativo il punto qual è che la legge residuale la normativa residuale dopo una eventuale abrogazione referendaria deve essere immediatamente applicabile cioè deve consentire in pura teoria lo svolgimento corretto di elezioni ed è là la questione è là la questione che non tecnicamente non è praticabile l'ipotesi di un referendum abrogativo di una parte di una normativa elettorale che renda poi il giorno dopo il referendum immediatamente applicabile la normativa di risulta per fare in modo che le elezioni si possano tenere in maniera costituzionalmente corretta ed è qua tutta la questione perché se la corte costituzionale invece di dire leggo queste quattro righe è evidente che la decisione che si assume di dichiarata incostituzionalità della normativa elettorale e di annullamento delle norme censurate avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la camera e per il senato produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dall'età ed ecco qua che fatta la legge come si dice è trovato l'inganno le camere hanno adottato una nuova normativa eludendo chiaramente il dettato della della corte costituzionale perché la la corte si ferma qua perché in effetti poi tecnicamente sarebbe difficile dire il parlamento è abusivo lo dichiaro decaduto la corte non può farlo questo dichiarare decaduto l'intero parlamento avrebbe potuto e questa è una delle cose che nella seconda sentenza abbiamo chiesto ma non ottenuto avrebbe potuto intervenire subito e dire intanto intanto non si consente la convalida degli eletti ed è già in una mette il parlamento in una in una situazione di limbo avrebbe si sarebbe potuta poi costituire la una piccola assemblea costituente come sapete anche nella costituente c'era la commissione dei 79 che avevano elaborato i principi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli per cui avrebbe potuto anche ritagliarsi una bicamerale di riforma elettorale insomma si potevano fare tante cose ma la corte non se l'è sentita di fare una cosa del genere perché qua sta la qua sta tutta la la funzione degli intellettuali dei politici di coloro i quali vogliono e possono fare opera come si dice di moral suasion e pervenire a questa a questa assestamento che tutti quanti noi auspichiamo perché poi anche là è difficile dire dobbiamo dare rappresentante al 60% che non vota è una esigenza politicamente corretta giusta e anche l'esercizio del non voto è un'espressione di volontà ed è così certamente ma dare rappresentanza in uscita in termini di seggi al non voto tecnicamente è quasi anzi è impossibile ci hanno provato in tanti nessuno è riuscito a produrre una sensata normativa che possa rappresentare il non voto e quindi noi siamo in quel limbo in cui un paese che produceva il 75-80% di partecipanti alle elezioni oggi è sotto quasi sotto il 40% e però si trova ad avere una maggioranza del 18-19% una minoranza del 18-19% che in termini istituzionali diventa la maggioranza della Meloni cioè il 60% e qua è il paradosso italiano è incredibile ma è così a queste cose dobbiamo noi dobbiamo riflettere e porre rimedio però la questione dell'applicabilità di una normativa residuale dopo l'abrogazione delle norme incostituzionali è un problema è davvero un problema non si può rimanere voglio dire immaginatevi questo scenario un Parlamento abusivo viene dichiarato in blocco così com'è il Parlamento di adesso è totalmente abusivo al 100% e lo dico con cognizione di causa ma viene dichiarato decaduto e quindi siamo senza la guida istituzionale anche questo è uno scenario inquietante e pericoloso al pari di quello che stiamo vivendo che cose si dovrebbe fare come si può agire per agirare questo ostacolo il capo dello Stato forma una commissione costituente ma non è nei suoi poteri non ce l'ha questa capacità costituzionale è un gran problema per questo la Corte diciamo con una saggezza cauta a nostro avviso troppo cauta però sta nelle corde di una Corte costituzionale ci sta ha detto gli atti compiuti rimangono validi e il Parlamento rimane in carica un popolo e una rappresentanza istituzionale seria al primo monito della Corte Costituzionale che cosa dice la Corte Costituzionale ci ha detto che queste cose non vanno cambiamole il punto è proprio là la selezione della classe dirigente che dice ah la Corte Costituzionale ci dice che queste cose non vanno peggioriamole facciamole facciamo di peggio perché così noi rimaniamo sempre in carica Franco Trane posso parlare? Vai Franco io visto che il nostro referendum è un referendum abrogativo ci sarebbe la possibilità di eliminare solamente quella parte di coerenza che Paolini ha definito come una coercizione che impedisce la libertà dei votanti o no? Sì eliminando questa parte qua poi la normativa che rimane residuale non è direttamente non è automaticamente applicabile e questo è il punto tecnico perché la legge elettorale è molto complicata è connessa questa parte qua è connessa alla individuazione delle circoscrizioni che sono state cambiate in relazione al dimezzamento del numero dei parlamentari e il fatto che la Camera e il Senato hanno due rappresentatività diverse la Camera rappresenta l'intero ambito territoriale del Paese mentre il Senato è eletto su base regionale insomma la normativa residuale avrebbe volta esaurito gli effetti di un eventuale potenziale referendum la norma residuale avrebbe bisogno di una manutenzione devoluta sempre al Parlamento ricordiamoci che durante lo svolgimento del referendum il Parlamento rimane in carica e il referendum ricordiamoci anche questo viene sterilizzato e quindi viene poi non tenuto se il Parlamento emana una legge che modifica il quesito che soddisfa il quesito referendario formalmente quindi il pallino ce l'ha sempre e ci giriamo intorno mi creda da 15 anni il pallino ce l'ha sempre l'istituzione come è giusto che sia è solo che l'istituzione ha tutta la convenienza la composizione dell'istituzione ha tutta la convenienza a mantenere questa porcata cotale definita dall'autore della porcata non è una cosa mia ha tutto l'interesse a mantenere in vigore questa porcata che consente di rimanere là ed esercitare non un governo ma un potere ovviamente sono due cose differenti molto diverse Romana Mancini vuole intervenire buonasera io sono molto preoccupata per questa deriva autoritaria che sta assumendo il nostro paese perché si assiste ad una progressiva riduzione dei diritti sotto ogni profilo e anche dei diritti dell'elettorato attraverso questa riduzione dei parlamentari la proposta dell'autonomia differenziata del presidenzialismo e addirittura del monocameralismo questa è una vecchia idea che risale a quando io ero giovane e che adesso è stata rilanciata da calenda e a me sembra veramente uno dei tanti errori che stiamo accettando muovendoci poco facciamo qualcosa scriviamo una lettera al presidente della repubblica a tutti i parlamentari cioè è inaccettabile che in uno stato moderno si pensi che il funzionamento di un intero sistema democratico possa dipendere dalla riduzione delle camere ad un unico ordine ma dove mai si è visto cioè ma non esiste non esiste nel mondo esiste le dittature ma neanche forse delle dittature degli anni settanta in sud America cioè qui stiamo andando a grandi passi verso qualcosa che proprio non mi piace è poco chiaro è sempre nebuloso ma ogni riforma ci toglie qualcosa non so se è una sensazione mia oppure vorrei da voi ma conferma cioè soprattutto reagiamo poi possiamo anche proporre proporre noi cittadini sulla base di questa ehm leggi di petizioni popolari possiamo fare delle raccolte di firme no? a proposito di che cosa? a proposito di questa bruttissima abitudine pessima come diceva l'avvocato ehm diciamo in un certo senso sostenuta da queste continue riforme del ehm delle leggi della legge elettorale che consente al deputati di usare ogni tipo di partito cioè ma questo solamente in Italia ma se una persona si candida con un partito perché può essere ehm diciamo autorizzato può permettersi scusate l'espressione un po' forte di cambiare partito cioè questo è inaccettabile io ho votato quella persona che rappresenta quel partito e non mi piace questa idea che dopo sei mesi o dopo due anni e mezzo invece decida di cambiare vai a casa no? cioè un po' di dignità come ci stanno dimostrando adesso i giornalisti della RAI che sono veramente persone straordinarie secondo me che di fronte a un out out decidono addirittura di dare le dimissioni guardate che questi sono momenti molto difficili molto non so delicati della nostra democrazia io non lo ricordo io ho 64 anni non mi ricordo una situazione già comunque stringendo con le lode ai giornalisti italiani comunque volevo dire solamente una cosa ecco io vorrei una raccolta di firme per impedire sia ai deputati di cambiare casacca no? a loro piacimento per loro motivi personali sia di ehm ai partiti di fare coalizioni senza nessun fondamento politico cioè ma avete visto le ultime elezioni lo stesso partito che prima si era candidato con l'area di sinistra poi si va a candidare con quella di destra d'accordo che siamo usciti da una sorta di unità nazionale però così non va bene cioè questo è quello che manca in Italia no? la coerenza ecco io vorrei sottoporre tutti gli organi fondamentali da tutte le istituzioni più importanti del paese queste contraddizioni cioè è un qualcosa che non funziona c'è qualcosa di grave che non va ecco poi mi stupisco di questa idea della monocamerale per me veramente avverrante cioè il senato ha una funzione veramente importante nel nostro sistema perché consente di inserire quella legge che è stata approvata sulla base del conflitto però dal Parlamento dalla Camera dei Deputati nel nostro ordinamento cioè tutti questi accomodamenti diciamo tra la nuova legge e l'ordinamento giuridico ma fa proprio il senato che o accetta la legge così com'è oppure la rinvia alla Camera cioè questa non è una perdita di tempo come si suol dire come ci fanno credere oggi la democrazia non perde tempo e ci sono dei tempi necessari per la riflessione perché non siamo macchine siamo esseri umani ho finito tutte le riforme che ha citato Piero prima all'inizio di questa conversazione sono nate dal bicameralismo perfetto e c'è dalla esigenza di una doppia lettura che non è un orpello non è stato pensato come un orpello è un'esigenza democratica che i padri costituenti hanno previsto per sterilizzare la possibilità di fughe in avanti di leggi malfatte di proposte fatte sulla scorta della della convenienza di un partito o di una poca riflessione la doppia lettura è una delle funzioni essenziali del bicameralismo e del bicameralismo perfetto qual è la questione che pone lei in maniera molto profonda è che si cerca di introdurre principi così per sentito dire senza aver neanche letto la Costituzione che vuol dire il presidenzialismo o il semipresidenzialismo chi lo dice sa di che cosa parla ha letto mai la Costituzione che ha un impianto chiaramente fondato sul parlamentarismo con le elezioni dei vertici dello Stato di secondo livello il Presidente della Repubblica viene eletto dai grandi elettori che sono il Parlamento in seduta congiunta il Presidente del Consiglio dei Ministri viene nominato dal Presidente della Repubblica sulla base di consultazioni dei partiti è tutto un meccanismo di pesi e contrappesi che in altre formule come quella americana hanno altre questioni hanno altri accorgimenti i contrappesi del sistema americano stanno nel Congresso che è indipendente dal Presidente può porre dei veti il nostro impianto è diverso per cui si dovrebbe pensare e io invito tutti quanti a leggere l'eccellente pensiero di Livio Azzariti apparso ieri sul manifesto dove dice che invece di rafforzare i governi che sono fortissimi già e che con l'abuso dei decreti legge già se ne fregano altamente del Parlamento e quindi del popolo bisognerebbe invece invertire la rotta e rafforzare il Parlamento come presidio di democrazia e di difesa dei diritti del popolo rispetto a un governo che ripeto non è più governo ma è semplicemente potere Livio Azzariti l'ha detto con grandissima lucidità ed è in quel senso che bisognerebbe andare e fare le nostre quello che possiamo fare sotto il profilo della moral suasion delle petizioni degli interventi ma bisognerebbe allagare di queste nostre convinzioni non solo in questi conciliaboli che facciamo noi o i giornali o altro ma spingere nelle sedi istituzionali che queste decisioni possono prendere abbiamo pochi spiragli non ne abbiamo tanti però da questo punto di vista è questa la cosa che possiamo fare io non ho nessuna fiducia nella classe dirigente istituzionale di oggi pensate davvero che il Parlamento possa tenere in considerazione la proposta di legge contro l'autonomia differenziata che ha avuto 110.000 firme che non sono un risultato da poco sono un risultato straordinario ma il Parlamento di oggi lo terrà in considerazione le 110.000 firme raccolte sotto la prima firma di Massimo Villone no certamente no non siamo nati ieri e quindi da questo punto di vista non possiamo avere fiducia in questo dobbiamo trovare anche con una certa fantasia politica e fantasia istituzionale altre forme e altri presidi di riferimento come queste nostre conversazioni poi ci rafforzano e ci fanno pensare perché dopo questo io dopo queste conversazioni dopo questo confronto abbiamo tutti e io per primo la necessità di riflettere su cosa fare come servono tutte queste cose naturalmente non cambieremo il mondo ma insomma un piccolo nostro contributo da questa parte lo possiamo dare e questo è il nostro certo io sono convinto sono convinto che la tua lezione di questa sera sia davvero importante perché fa capire anche persone come me che la politica la segue diciamo con una certa attenzione e consapevolezza anche risvolti che mi erano che mi erano ignoti che mi mostrano anche in maniera più drammatica di quanto immaginassi è inquietante l'effettiva situazione l'assoluta infondatezza del potere costituzionale di chi ci governa no? questo lo possiamo dire assolutamente questo tu l'hai detto sulla base di competenze tecniche stringenti precise non ideologiche e questo a chi ci ascolta ha fornito strumenti di consapevolezza che prima non possedevano e che trasmetteranno ad altri questa tua lezione poi girerà sarà diffusa chi può spingere perché venga anche ascoltata dagli studenti nelle scuole eccetera ed è questa consapevolezza che dà come dire una certa dirompenza anche alla lotta politica che alcuni di noi vanno conoducendo perciò ecco se non ci sono altri interventi io tornerei a ringraziarti davvero per questa bella illuminante ringrazio io voi di avermi dato la possibilità di un confronto davvero davvero e senza diciamo retorica preziosa grazie Enzo grazie a voi di nuovo grazie buonasera grazie è stato interessantissimo grazie grazie ancora